Chiese, palazzi, statue, obelischi. Napoli è sempre stata un ricettacolo di arte a cielo aperto, ma la gestione di questi beni in tempi recenti non è esente da critiche. Nonostante la molle di opere e siti quasi implichi logicamente una gestione temporalmente scansionata di ogni singolo angolo della città, è difficile per residenti e cittadini in qualche caso ricordarsi di una tale chiesa o di un certo monumento privo di scritte o impalcature e reti di protezione. Basti pensare al Palazzo Fuga, recentemente nel mirino del Ministro San Giuliano, ancora oggi costantemente imbrattato da scritte e graffiti, o alla Basilica di Santa Chiara, sfortunatamente tornata agli onori della cronaca non troppo tempo fa, quando alcuni ragazzini erano stati sorpresi e ripresi a scrivere all'esterno dell'edificio di culto con alcune bombolette spray. Dal crollo di alcune pietre del maschio angioino a quelli del Castel dell'Ovo, tutto racchiuso per ristrutturazione, non è solo l'inciviltà a insozzare i monumenti della città, ma anche una cura non adeguata degli stessi beni, che in certi casi li mutila con reti e impalcature e in altri, più gravi, li rende completamente inaccessibili. Napoli è e sarà eternamente una città scrigno di arte e cultura, ma vederla qui e ora così fa male al cuore, ai residenti come anche ai turisti che arrivano nella terra di Partenope per godire delle sue bellizze.